28 novembre 1820. Nasce il filosofo e politico tedesco Friedrich Engels. Nel 1844 incontra a Parigi Karl Marx con il quale stringe un forte sodalizio intellettuale che li porta a scrivere la sacra famiglia, l'ideologia tedesca e il manifesto del partito comunista. Trasferitosi a Londra, Engels prende parte alla politica attiva come dirigente della prima e della seconda internazionale e intrattiene rapporti con il movimento operario internazionale, entrando in corrispondenza anche con Filippo Turati e Antonio Labriola.